Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta per terrorismo e accaduto a Potenza dove il 14enne era attivo nella creazione e pubblicazione di contenuti per lo Stato Islamico di cui voleva promuovere la creazione di una provincia in Italia. L'inchiesta diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni ha visto la misura cautelare convalidata dal GIP che ha disposto il suo collocamento in comunità. Il magistrato ha ritenuto infatti sussistenti gravi indizi di colpevolezza. Il trasferimento in comunità è stato deciso anche in vista di un efficace intervento di sostegno e recupero del minore in considerazione della sua giovanissima età. Durante le indagini condotte dalle agenzie di informazione e sicurezza è emersa in particolare l'attività del ragazzo in un gruppo Instagram composto da seguaci dello Stato Islamico. Nel dettaglio gli investigatori hanno accertato che oltre a creare contenuti jihadisti il ragazzo era fruitore di video che mostrano attacchi suicidi preparati da minorenni oltre che proprietario di due gruppi Telegram creati per riunire sostenitori dello Stato Islamico e promuovere la creazione di una provincia dell'Is nella penisola italiana. Nel corso di una perquisizione personale, locale, domiciliare e informatica sono stati rinvenuti elementi oggettivi a sostegno dell'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e deversione tra cui la palesata intenzione di compiere azioni controindicate a breve termine sul territorio nazionale oltre a munizioni e oggetti atti ad offendere.